Dunque io anzitutto vorrei dire che mi trovo un po' così fuori posto qui perché io sono una persona che ha lavorato almeno un quarto di secolo sulla questione dell'energia, dell'energia nei vari aspetti e così via, quindi conosco le cose con grande chiarezza. Vorrei dire alcuni concetti rapidamente anche perché i tempi sono brevi. La prima osservazione è che il clima della Terra ha sempre cambiato, è sempre cambiato. Oggi noi pensiamo, in un certo senso, probabilmente in maniera falsa, che se non facciamo nulla, se teniamo la CO2 sotto controllo, il clima della Terra resterebbe costante. Questo non è assolutamente vero. Vorrei ricordare che durante il periodo, l'ultimo milione di anni, la Terra era dominata da periodi di glaciazione in cui la temperatura era meno di 10 grani, tranne brevissimi periodi in cui c'è stata la temperatura, quella di oggi. L'ultimo è stato 10.000 anni fa che ha cominciato il cambiamento climatico che conosciamo con l'agricoltura, con lo sviluppo, eccetera, eccetera, che è la base di tutta la nostra civilizzazione di oggi. Ora, negli ultimi 2.000 anni, ad esempio, la temperatura della Terra è cambiata profondamente. Ai tempi dei Romani, ad esempio Annibale, è venuto con gli elefanti a attraversare le Alpi per venire in Italia. Oggi non ci potrebbe venire, perché oggi la temperatura della Terra è inferiore a quella che era ai tempi dei Romani, da un grado e mezzo di temperatura, e quindi oggi gli elefanti non avrebbero potuto attraversare questa zona dove sono passati inizialmente. C'è stato il periodo del Medioevo, c'è stata una piccola glaciazione, intorno all'anno 1000 c'è stato un aumento di temperatura simile a quello dei tempi dei Romani, ricordiamo che in tempi dei Romani la temperatura è un grado e mezzo più alto di quella che è oggi, e poi c'è stata una glaciazione durante il periodo del 1500-1600, quei famosi fenomeni che successe soprattutto nel nord, dove i vichinghi e altre cose di questo genere hanno avuto enormi problemi di sopravvivenza a causa di questa mini glaciazione che si è sviluppata con cambiamenti di temperatura sostanziali. Se restiamo nel periodo degli ultimi 100 anni, ci sono stati dei cambiamenti climatici sostanziali che sono avvenuti ben prima dell'effetto antropogenico, dell'effetto serra e così via, che sono per esempio negli anni 40 c'è stato un cambiamento sostanziale, poi c'è stato un cambiamento di temperatura che in qualche modo è considerato la presenza dell'uomo. Non dimentichiamo che quando sono nato io la popolazione della Terra era 3,7 volte più piccola di quella che è oggi e il consumo energetico primario è aumentato 11 volte nella mia vita. Quindi è una cosa impressionante, una cosa esplosiva, che però ha avuto degli effetti molto strani e molto contradditori per quanto riguarda il comportamento del pianeta. Vorrei ricordare, e chiedo al Ministro conferma di questa cosa, che dal 2000 al 2014 la temperatura della Terra non è aumentata, è diminuita, è diminuita di meno 0,2 gradi, che noi non abbiamo osservato negli ultimi 15 anni nessun cambiamento climatico di dimensione. E questo è un fatto che tutti i vostri dovete rendervi conto, perché non siamo di fronte a un'esplosione esplosiva della temperatura. La temperatura è montata fino all'anno 2000, quando c'è stato l'inizio con Paciauri, IPCC, eccetera, da quel momento lì noi siamo rimasti costanti, anzi siamo scesi di 0,2 gradi. È giusto Ministro o no? È giusto. La cipede delle previsioni, io guardo i fatti, il fatto è che la temperatura della Terra negli ultimi 15 anni non è aumentata, è diminuita, va bene? E nonostante questo ci troviamo di fronte a una situazione assolutamente drammatica, che è il fatto che le emissioni di CO2 stanno aumentando in maniera esponenziale. Tra le varie soluzioni dell'IPCC c'è la soluzione del business as usual, che è quella più alta di tutte, che indica che effettivamente anche grazie allo sviluppo della Cina e degli altri paesi, l'aumento della dimensione di CO2 sta aumentando con estrema rapidità. E sta aumentando in maniera tale che a mio parere tutte queste speranze che noi abbiamo di ridurre il consumo energetico facendo azioni politiche o altre, sono contradditte dal fatto che oggi il cambiamento climatico del CO2 è un aumento esponenziale che non ha neanche dimostrato una tendenza a ridursi, sta continuando ad andare liberamente come un'esplosione di questo genere. Quindi tra questo e arrivare nel 2020 e nel 2030 a girare le cose è un grandissimo difetto. Vorrei ricordare che a questo punto l'unico paese che nel mondo è riuscito a mantenere e ridurre l'emissione di CO2 è paradossalmente gli Stati Uniti. Non l'Europa, non la Cina, ma gli Stati Uniti. Per quale motivo? Perché c'è stato lo sviluppo del gas naturale, che adesso sta rimpiazzando fondamentalmente l'emissione di CO2, e questo è dovuto dal carbone e oggi le emissioni di CO2 in America, oggi le emissioni di energia elettrica in America, sono il doppio, sono più grandi grazie a gas naturale di quelle che formano il gas. Ricordiamo anche un'altra cosa, che il costo dell'energia elettrica in America è due volte il costo dell'Europa. Perché? Il consumo della chimica fine in Europa è deficitario, è un crollo fisso, perché fondamentalmente in America si stanno sviluppando delle tecnologie, grazie a uno sviluppo tecnologico ambientale importantissimo, che ha permesso veramente di cambiare la cosa. Questo dà un messaggio chiaro, che soltanto attraverso lo sviluppo tecnologico noi possiamo cercare di entrare in competizione con i vari paesi, non attraverso una misura del tipo dell'Unione Europea, che sono sempre state misure di coercizione, state misure di impegno politico, formale, senza dietro un'idea, una cosa, una soluzione. E se noi confrontiamo la situazione americana, dove c'è un progresso effettivo nel vantaggio tecnologico, che crea business, crea posti di lavoro, crea tutte cose di questo genere, e guardiamo la situazione europea, dove noi siamo lì a dirci che dobbiamo ridurre, perché se non riduciamo finiremo in un disastro, eccetera, eccetera, eccetera. Questo tipo di cose, secondo me, c'è una grandissima differenza. Anche l'ambiente, e adesso voglio finire, anche le soluzioni che viene dalle energie rinnovabili. Con oggi gli sviluppi tecnologici nel campo del gas naturale, le energie rinnovabili si trova in una situazione estremamente difficile, perché oggi il gas naturale in America è un quinto del costo del gas naturale in Europa. E il costo delle energie rinnovabili in Europa è superiore a quello del gas naturale. Quindi dobbiamo renderci conto che la soluzione tecnologica può essere di qualunque genere, tutto dipende da quello che vogliamo fare. Vorrei aggiungere un'altra cosa. Io sto portando avanti un programma che a mio parere potrebbe essere studiato con molta più attenzione anche dal nostro Paese, che è quello di prendere il gas naturale e di emettere il gas naturale senza emissione di CO2. Il gas naturale è fatto dal CH4, cioè quattro idrogeni e un carbone. È possibile trasformare questo gas naturale spontaneamente in black carbon, che è grafite, e l'idrogeno. E questa grafite, essendo un materiale solido, non rappresenta la produzione di CO2. Quindi è possibile o di utilizzare il gas naturale, di cui ci sono risorse assolutamente incredibili, non tanto il shale gas, che a mio parere è una soluzione indiscutibile, ma soprattutto di quelli che si chiamano i clatrati. Vorrei chiedere quanti voi, signori onorevoli, sapete cos'è un clatrato? C'è qualcuno che lo sa? No, non so. E' questo che voglio sottolineare come problema. E' un problema molto serio. Quindi a mio parere, posso finire, posso lasciarmi finire, perché conchiudo e basta. Quindi il mio parere personale è che attraverso l'innovazione tecnologica, e avendo lo sviluppo di idee nuove, si può portare avanti il programma. Il problema è quello di bloccare le CO2 emissioni, si possono fare utilizzando il gas naturale senza emissioni di CO2. E noi abbiamo degli esperimenti che stiamo facendo, che dimostrano che effettivamente la cosa si può fare. Perché non c'è nessuno che se ne occupa? Signor Ministro, questo mi piacerebbe saperlo. Grazie Senatore Rubbia, do la parola finale al Presidente della Commissione Ambiente Marinello e poi al Ministro. E poi chiudiamo, no, chiudiamo a 4.35. Scusate, ho parlato 10 minuti.